Una previsione meteorologica sbagliata può causare più danni di ciò che si può pensare. Una legge per fermare il meteoterrorismo e salvare l'industria delle vacanze. E' l'obiettivo della proposta di legge a firma di un deputato del Partito Democratico che definisce i servizi meteorologici, siano essi pubblici o privati, di rilevante interesse nazionale. L'Italia e la Grecia sono gli unici paesi europei a non avere un sistema meteo nazionale civile e la mancanza di un servizio di coordinamento a livello nazionale produce duplicazioni, sovrapposizioni e sprechi di risorse. Bombe d'acqua mai cadute e città che aspettano neve che le avrebbe dovute ricoprire ma che non si è nemmeno vista e maltempo estivo non intenso come è previsto. Che le previsioni meteo non possano essere affidabili al 100% è un dato di fatto ma che possano esagerare mettendo in allarme cittadini e imprese come quello che è stato definito meteoterrorismo che da alcuni anni imperversa in Italia ad opera di privati, soprattutto su internet è una tendenza ormai troppo marcata e i danni purtroppo si contano anche da noi. La gente visto la crisi guarda molto le previsioni e sapendo che c'è il tempo brutto rifiuta la vacanza dicendo sto a casa e non spendo soldi per stare dentro l'albergo e quello da noi ci penalizza tanto. Quindi i siti e gli allerta che vengono messi sui siti che alle volte poi magari rientrano però condizionano. Vi dico una cosa che tanti anni fa Rimini fece una causa proprio per le previsioni del tempo perché dando delle previsioni così è la gente dice c'è tempo brutto ritiro la pronotazione e non vengo penalizzando la vacanza, penalizzando l'albergo e naturalmente quando noi vediamo che c'era tempo brutto e invece fuori c'è il sole dico anche stavolta ci hanno fregato. Voi che cosa pensate di fare su questo fronte? Qui bisogna sperare alla gente che l'adopri molto con una sensibilità perché dare le previsioni affrettate di 7-8 giorni come diceva il buon Morico sono impossibili perché il cambio del tempo, i venti, succede che invece il tempo è buono dando la previsione sbagliata e da noi ci penalizza. Ma direi che una previsione onesta è fino a un massimo di 4 giorni nel senso che ha una certa attendibilità. Poi mano a mano che andiamo avanti chiaramente questa percentuale tende a diminuire. Però tendo a precisare, noi lavoriamo su dei modelli matematici che escono due volte al giorno, quindi se escono due volte al giorno sicuramente un motivo ci sarà.